Ragazzi buonasera a tutti e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 2 dicembre 2021, Bitcoin 56.200 dollari in questo momento, quindi ragazzi guardiamo come si è modificata la situazione rispetto a ieri, facciamo qualche riflessione sul momento attuale di Bitcoin, poi parliamo di Litecoin e cerchiamo di capire un target possibile per Litecoin esattamente come abbiamo fatto ieri con XRP E poi ragazzi guardiamo una chart inedita che porta dei dati on chain interessanti, quindi ragazzi come al solito lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri commenti Quindi ragazzi guardiamo la situazione rispetto a ieri non si è molto modificata, siamo in una fase interlocutoria per Bitcoin, una fase forse anche un po' noiosa che richiede molta pazienza e queste fasi sono comuni nella storia di Bitcoin ed anticipano fasi invece dove c'è maggiore volatilità Quindi armiamoci di pazienza, guardiamo insieme la chart, siamo stati rigettati proprio ieri in prossimità di questa media mobile, quindi questa linea azzura che vedete la media mobile dei 20 giorni E quindi per adesso siamo ancora al di sotto di due livelli di resistenza importanti, proprio la media mobile dei 20 giorni, questa linea azzurra e il livello pivot del mese di dicembre 59.700 dollari, sono due livelli che vogliamo assolutamente violare al rialzo per confermare la continuazione del bull market nel mese di dicembre Vediamo ragazzi che qui sotto abbiamo il MACD, siamo sempre più prossimi ad un incrocio rialzista tra le due medi mobili del MACD che confermerebbe eventualmente la continuazione del rialzo E poi ragazzi guardiamo un po' la RSI qui sotto, vediamo che come in questa circostanza, quindi durante la discesa che c'è stata a fine settembre Bitcoin ha ritestato, ha fatto una sorta di doppio minimo in zona 40.000 dollari con una divergenza della RSI Per cui RSI minimo, secondo minimo più alto, non escludiamo la possibilità che anche in questa circostanza Bitcoin possa ritestare di nuovo il minimo fatto il 27 novembre scorso In zona 53.500 dollari, mettendo a segno una divergenza anche in questa circostanza sull'RSI Quindi eventualmente aspettiamoci anche la possibilità che Bitcoin voglia ritestare di nuovo il livello dei 53006 anche in corrispondenza di questo livello di resistenza Quindi uno scambio resistenza contro supporto, un test ed eventualmente una ripartenza Parliamo ragazzi poi di Litecoin, prima di guardare il grafico di Litecoin voglio mostrarvi una veloce cosa su Bitcoin Spesso i grafici che vi mostro, utilizzo i livelli di Fibonacci, in particolare il livello dell'1.61 come estensione molto importante che il prezzo va a ritestare E non è un caso, per esempio con Bitcoin, l'importanza di questo livello è chiara guardando il grafico di Bitcoin Perché dal massimo del 2017 al bottom del 2018 vediamo chiaramente che il livello successivo che Bitcoin va a testare è stato precisamente il livello dell'1.61 Guardate qui il top, il primo top che c'è stato ad aprile e maggio è stato proprio in corrispondenza dell'estensione 1.61 Quindi è un'estensione molto importante sia per Bitcoin ma anche per tutte le altcoin Quindi se osserviamo nel dettaglio la situazione di Litecoin Questo grafico mostra il prezzo di Litecoin dal 2013 con Litecoin che era a 2,70$ fino ad oggi 206$ all'incirca E vediamo chiaramente che Litecoin come tutto il mondo delle cripto logicamente segue l'andamento di Bitcoin Durante i bull market 2013-2017 fa delle salite molto importanti Durante i bear market perde il 90-95% della sua valorizzazione Se facciamo una misurazione vediamo che dal top del 2013 fino al bottom all'incirca un 97% Mentre la salita del 2017 è stata veramente incredibile da i 4$ fino ai 400$ quindi all'incirca il 7.700% Per poi perdere in qualche mese il 92% del suo valore Quindi intervalla esattamente come tutto il mondo delle cripto Importanti fasi rialziste con altrettanto importanti fasi discendenti E vediamo che un'estensione che piace a Litecoin da questo massimo Quindi massimo 2013-40$-50$ fino al bottom del 2015 Vediamo che il top per Litecoin nel bull market successivo è stato l'1.41% Quindi il top è stato tra l'1.41% e l'1.61% Non siamo riusciti ad arrivare all'1.61% Quindi applicando la stessa regola e supponendo che Litecoin violerà ovviamente a una supposizione Il precedente massimo storico quindi intorno ai 360$ Prima rigettato in questa circostanza e poi rigettato anche qui Potremmo avere un target per Litecoin se ovviamente rivisitasse la stessa estensione Intorno ai 1000-1140$ fino all'1.61% Intorno ai 1900$ Vi assicuro che se adesso sembra impensabile che Litecoin possa arrivare a 1000$ Era altrettanto impensabile quando stava a 4$ Vederlo arrivare a 400$ nell'arco di pochi mesi Quindi ragazzi in questo mondo poche sono le cose impossibili Meglio tenere a mio avviso una mentalità aperta per non perdere grandi opportunità Sia chiaro che in questo momento se Bitcoin dovesse fare nuovi massimi storici È possibile vedere scenari del genere sulle altcoin Se invece Bitcoin dovesse non riuscire a fare nuovi massimi storici Logicamente la performance delle altcoin a mio avviso sarebbe sicuramente peggiore Ragazzi in ultimo vi porto questo indicatore che mostra dei dati presi on-chain Arriva da Glassnode Si chiama Net Unrealized Profit and Loss Che cosa vuol dire questo indicatore? Mostra il rapporto che c'è tra la quantità di profitti non realizzati sul mercato E la quantità di perdite non realizzate sul mercato Questo cosa vuol dire? Che quando siamo in una zona rossa di questo indicatore Vuol dire che ci sono tantissime perdite non realizzate Questo vuol dire che gli investitori sono sott'acqua ed hanno acquistato Prima che il prezzo sostanzialmente scendesse e sono in perdita Mentre invece quando siamo in zona arancione, gialla, verde o addirittura azzurra Vuol dire che ci sono tantissimi profitti non realizzati Quindi siamo in una fase identificata di euforia oppure positività Quindi quando siamo in rosso vuol dire che ci sono tante perdite Quando siamo in azzurro vuol dire che c'è una grande fase di euforia Perché moltissime persone sono in grande profitto E questo è che cosa ci mostra che quando l'indicatore flasha il segnale azzurro Quindi siamo nella fase di con un rapporto sopra lo 0,75 In passato è stato in grado di identificare i precedenti top del mercato Così nel 2011, nel 2013 per due volte e anche nel 2017 Non è stato così nel primo top del 2021 Non abbiamo visitato la fase di euforia al di sopra degli 0,75 Quindi ragazzi questo è un altro indicatore che mostra i dati on-chain In questo momento la cosa interessante è che siamo più o meno allo stesso livello prezzi In cui eravamo qualche mese fa intorno ad aprile-maggio Ma il livello di profitti non realizzati è molto inferiore E questo vuol dire che c'è ancora spazio eventualmente per Bitcoin Per arrivare in una zona di profitti non realizzati Altrettanto equivalente a quella che c'era qualche mese fa Quindi mostrerebbe che c'è ancora dello spazio per crescere Ragazzi per oggi è tutto Fatemi sapere cosa ne pensate Io vi ringrazio per la vostra attenzione E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao